Pulsante di colore, risate e musica. Ecco la casa di Elisa Toffoli. La casa della cantante Elisa Toffoli è immersa nel verde e caratterizzata da un'atmosfera rilassantissima. Lo dimostra molto bene la sala da pranzo, con grandi finestre luminose che si affacciano su una vista mozzafiato. Il tavolo di legno scuro e le luci calde rendono il clima ancora più accogliente. Il legno è protagonista anche in un'altra sala della casa, ma in una tonalità più chiara e accostato al bianco di tende e pareti e al rosso di una poltrona. L'arredamento è rustico e familiare e spesso è sfondo di divertentissimi balletti casalinghi fatti dalla cantante. Il bagno è minimale ma funzionale. Le piastrelle sono color avorio marmorizzato, c'è un'ampia vasca bianca e le pareti sono in total black, rappresentando una location molto versatile per i selfie da condividere sui social. La cucina riflette la simpatia e l'estro di Elisa. I mobili e le pareti sono bianchi, ma è il colore che fa da padrone nella stanza, tra stoviglie, canovacci e qualche pupazzetto. Il colore della casa di Elisa è però dato soprattutto dai suoi figli, Emma e Sebastian, che amano aiutarla nella preparazione di dolci e manicaretti tra briciole e risate. Immancabile un pianoforte accompagnato da libri e quadri, con cui Elisa compone e si esercita nelle sue canzoni. E tanti, tanti spartiti, che sovrastano il parchellinio dell'abitazione e che sono il suo vero e proprio cuore pulsante.